... Ascoltate, adesso sembra un delirio collettivo. Oggi abbiamo scoperto che c'è un messo, un negoziato che è da un anno e rotti che è in corso. Tra l'altro questo delirio collettivo è veramente il meccanismo delle informazioni e della comunicazione, vedete com'è strano. Questo delirio collettivo è stato suscitato dall'idea dell'opposizione. Era lo stesso che qualche mese fa partecipava ai tavoli dove si discuteva di mess. Vi dico soltanto, sono dati oggettivi. Da marzo a giugno 2019, quindi quest'anno pochi mesi fa, abbiamo avuto vertici di maggioranza con i massimi esponenti della Lega. Quattro incontri dove abbiamo discusso di mess, abbiamo discusso della fase di avanzamento del negoziato, tutti i risvolti. Quindi oggi ci si meraviglia e si scopre, la stessa persona, lo stesso partito scopre l'esistenza del mess e grida allo scandalo. Questo è un atteggiamento irresponsabile. Il governo deve essere responsabile. È giusto che i cittadini pretendano al governo un atteggiamento responsabile. E come lo è il governo? Responsabile, sedendosi ai tavoli, difendendo gli interessi nazionali in modo serio, rigoroso, studiando i dossier. Quando invece si partecipa ai tavoli a propria insaputa e poi si disconosce addirittura e non si capisce quello che si era studiato, si fa finta di nulla e si scopre per suscitare scandalo, delirio e si assumono questi atteggiamenti, quelli non sono atteggiamenti irresponsabili. Quindi io, come tutti i cittadini, pretendo dal governo un atteggiamento rigoroso e responsabile. Io pretendo dall'opposizione un'opposizione seria e credibile, perché così difendiamo tutti gli interessi nazionali, maggioranza e opposizione. Altrimenti è un sovranismo da operetta.